Mandia. Ah, Jay, è grandiosa. Ti piace? Da morire. Ma come fai a viverci da solo? Mai da solo. È sempre piena di gente interessante e famosa. Vieni con me. La casa si presenta bene, vero? Guarda come prende la luce e la facciata. È splendida. Sì. Venite voi due. Voglio vederla tutta. Devi sapere che a me piace tutto ciò che è moderno. Preme le arance e su puoi scendere. Ehi! Una partitina a golf. Tu sai che io sono una campionizza di golf, vero? Brava. Vedere, allora. È una notevole piccola cinepresa. Ultimo modello. È un bastone, ti piace per il video. Mickey, eccomi. Processore, trova un polpo. Continua a filmare. Sono pronto. E vai! Sono negata. Ok, pronta per il primo piano. Non voglio dimenticare nemmeno un test. È splendente. Potrebbe stare sulla copertina di golf. Non credi che lo immagino? È un esemplare unico. Qualcuno lo sa suonare. Clipspringer lo suona. Fai svegliare Ewing. Sì, signore. Musica! Possiamo ballare tutta la notte. Ewing è un genio sinfonico. Può suonare qualunque cosa. Allora io voglio il senso. Lei rende tutto splendente. Non crede per il gioco. Ho un uomo in Inghilterra che mi compra i vestiti. Non ho mai visto niente di simile. Questo per la signora. Le manda una selezione all'inizio di ogni stagione. Sì. Queste di flanella. Siete bellissime. Il cotone indiano. Guarda! G! Lino. Siete bellissime. Io non posso aiutarti. Flanella. Praticamente. E anche queste. Che cosa c'è? Daisy, Daisy, tesoro, che cosa c'è? Io... mi fa sentire triste. Perché? Perché? Cinque anni perduti lottavano sulle labbra di Daisy. Ma tutto ciò che riuscì a dire fu... Perché? Perché non avevo mai visto camicie così belle prima d'ora. Mi fa sentire. Mi fa sentire. Chiara? Grazie a tutti.